Ciao, sono Riccardo Gueci e sono il campione italiano giornalista. Vincere questo bracciale per me è stato significativo, visto che gioco a scacchi e a bridge, quindi mi piaceva vincere anche a poker. Il tavolo finale è stato caratterizzato da un avvio incerto, alla pausa ero addirittura l'ultimo. Poi invece una serie di colpi azzeccati e fortunati mi hanno portato ad accumulare fino ad avere molte più fisce degli altri e vincere con queste carte che vedete. L'avversario che mi è sembrato più temibile è stato Giangia, perché aveva accumulato più fisce degli altri e lo temevo un po'. Poi è andata bene. Desidero fare un ringraziamento particolare a Dario De Toffoli che mi ha invitato a venire. Se non fosse stato per lui non sarei stato qui e ovviamente un grazie a tutti per coloro che mi hanno seguito. Alla prossima!